Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui Salve a tutti youtubers, io sono Filippo Fiorenza con un nuovo video Finalmente, dopo anni, scusatemi ma sono all'università quindi non ho perso completamente tempo Ho visto appunto il trailer del famosissimo film dedicato alla migliore bende secondo me della storia Dedicato appunto ai Queen e a Freddie Mercury stiamo appunto parlando del nuovissimo Bohemia Rhapsody Film appunto che dopo parecchi anni si parla addirittura del 2009 finalmente esce con una nuova veste Con un cast totalmente nuovo rispetto a quello originale anche con un regista totalmente nuovo Ebbene sì, con il famosissimo Remy Malek, famosissimo appunto per serie Mr. Robot Interpreterà Freddie Mercury e poi abbiamo Joe Marello nella parte di John Deacon Ben Hardy nella parte di Roger Taylor Gimui Lee nella parte di Brian May Il film appunto ripercorrerà quelle che sono le tappe principali dei Queen Ovvero dagli inizi fino al loro punto massimo Ovvero il live del Live Aid del 1985 In questo primo trailer che cosa notiamo principalmente? Con un intro, con i classici vocalizzi di Freddie Mercury, i classici di Rorero Si vedranno appunto gli inizi della band di come Freddie si conobbe con Mary Fino ai piccoli problemi che ebbero in studio dagli inizi dei tempi appunto di Killer Queen Fino alla composizione del loro brano più famoso, ovvero Bohemia Rhapsody Sono rimasto davvero colpito da quelli che sono appunto questi primi due minuti del film Speriamo bene che la pellicola renda anche se già da queste prime battute Ne sono davvero contento Ovviamente il film uscirà il 24 di ottobre in Inghilterra Mentre l'Italia purtroppo, noi in Italia dovremmo aspettare il 25 di dicembre Bene sì, però per il periodo delizio mi piace questo film Ovviamente per tutte quante le informazioni vi metterò qua sotto il link in descrizione E piccola cosa Da un bel po' di tempo seguo una delle pagine forse migliori che ci siano in tutto quanto il mondo social Ebbene, dove ovviamente i famosi canali ufficiali del fan club We Will Rock Che vi invito anche ovviamente a sottoscrivere E alla pagina ufficiale non solo del film Bohemia Rhapsody e della pagina dei Queen Vi consiglio ovviamente di seguire tutte quelle che sono le informazioni che troverete Grazie a una pagina famosissima, ovvero la comunità queeniana italiana Che praticamente si trova ovunque Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Il fondatore appunto di questa pagina, ovvero il mio amico Claudio Tassone Ovviamente ogni giorno, veramente dalle 7 di mattina pubblica qualsiasi tipo di notizia Vi metto qua sotto sempre qui il link in descrizione per iscrivervi in tutte quante le pagine Per seguire tutte le novità Il vostro Filippo Ferenza 2.0 vi saluta qui con questa trailer diciamo review slash spiegazione Ovviamente quando uscirà il film in Italia farò una recensione davvero completa E non di questi scarsi 2-3 minuti di video Cercherò di spiegare tutto quanto il film Penso che durerà tanto quanto la durata del film Ovviamente iscrivetevi al canale Mettete mi piace al video Ditemi se anche voi siete dei fan dei queen Dei fan del film Ditemi se questo trailer vi è piaciuto o meno Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video E ciao! Ciao!